Eccoci, siamo live, chiedo una conferma tecnica ad Arianna che è sempre dietro le quinte e ci dirà se sta procedendo tutto per il verso giusto, intanto introduco gli ospiti di oggi, abbiamo degli ospiti d'eccezione in effetti, Dennis Curti che è uno dei più noti curatori italiani, è un gallerista, ha una scuola di fotografia, è una persona che si occupa di fotografia da sempre, praticamente è uno dei personaggi di spicco della fotografia italiana da decenni, quindi ecco anche un po' di timore nel presentarlo perché non voglio in alcun modo sminuire il suo curriculum e lo ringrazio tantissimo, siamo onorati per la sua presenza. Abbiamo Marco Lentini che rappresenta quest'oggi, che è un bravissimo art director e oggi rappresenta l'azienda per la quale lavora che è la Moac, di cui ci parlerà a breve lui e nello specifico perché oggi parliamo di Moac, perché Moac organizza un concorso fotografico che si chiama Fuorifuoco e che è un concorso dedicato al caffè, chiaramente visto anche quello che è l'ambito in cui attiva l'azienda Moac per l'appunto. C'è una collaborazione in atto fra corsobase di fotografia.it e Moac per cui per esempio tutti gli iscritti a corsobase di fotografia.it hanno la partecipazione, la possibilità di partecipare gratuitamente al concorso di cui ci parleranno questi graditi ospiti a breve. Abbiamo anche ovviamente i due ospiti, i due docenti di corsobase di fotografia.it di oggi che ci parleranno della loro passione per la fotografia fatta alla vecchia maniera, diciamo, della fotografia pellicola e nello specifico sta sorridendo Giuseppe Andretta e Alessandro Coccimiglio. Sia Giuseppe sia Alessandro la cosa curiosa è che sono entrambi degli stampatori, sono entrambi degli esperti di post produzione. Giuseppe è un po' il maestro dei maestri italiani, nel senso che tanta gente con cui io stesso ho studiato, ha studiato da Giuseppe, quindi anche se ha solo 18 anni ha una grandissima esperienza. Sto chiamando i 10 euro su Paypal. Esatto, però è curioso proprio il fatto che entrambi si occupino di, abbiano questa passione per l'analogico, per la fotografia e si occupino anche di stampa, tra le tante altre cose, perché poi ognuno di loro si occupa di tante altre attività. Lascio subito la parola a Denis e in primo luogo a Marco, che ci introdurrà un po', che ci dirà perché Moac, per quel motivo Moac che si occupa di caffè, di fatto, si interessi alla fotografia e non solo, come ci racconterà lui. Grazie, grazie Alessandro, innanzitutto grazie per averci ospitati a questo live, in questo momento che è molto interessante dal punto di vista anche della ricerca, dell'approfondimento sulla materia. Come anticipavi, io mi occupo della comunicazione visiva di Caffè Moac dal 2007 e per chi non la conoscesse è un'azienda di caffè che opera 50 anni nel settore professionale. Dal 2007 questa voglia di comunicare in una certa maniera è diventata sempre più forte a tal punto che all'interno dell'azienda è nata una vera e propria agenza pubblicitaria che si chiama Forma Moac. C'è da dire che già nel DNA dell'azienda esisteva la voglia di fare cultura, tant'è vero che 19 anni fa nasceva il primo concorso di narrativa che si chiama appunto Caffè Letterario, per cui già c'era questa spinta culturale. Così io insieme al gruppo marketing abbiamo pensato di avviare altri concorsi che potessero in qualche modo legare alla parte di ricerca, di network per arricchire la parte delle conoscenze dell'agenzia pubblicitaria. Così c'è stato un periodo che non tutti lo sanno perché poi è stata appunto sostituita e che è coesistito insieme al Caffè Letterario un altro concorso che era legato ai cortometraggi. Il problema dei cortometraggi era però la discussione in un certo senso di queste opere perché la nostra idea era quella di far veicolare queste opere all'interno poi dei nostri principali clienti che spesso sono i bar, che sono comunque dei locali. Per cui non tutti erano attrezzati per avere, non so, la televisione, l'audio. Quindi questa forma, come dire, poi di diffusione di questo prodotto non era facile. Ma soprattutto non era, almeno questo che lo dico personalmente, visto che io ci sono cresciuto nella fotografia, visto che mio nonno era fotografo, visto che, insomma, la mia infanzia è partita dalle camere oscure, anche per rimanere in tema con gli argomenti di oggi. E allora ci siamo concentrati per fermare questi frame dei video, facendoli diventare appunto un concorso di fotografia. Questo concorso di fotografia, quindi, è giunto quest'anno alla settima edizione, e ha visto come presidente di giuria personaggi a me molto cari, come Cesare Colombo, Laura Serani e Dennis Curti. Tra le novità di quest'anno c'è il fatto che Dennis Curti è stato un presidente di giuria, ma quest'anno sarà anche il curatore, il direttore artistico. E quindi questo, già dalla fine della scorsa edizione, ci ha messo in moto tutta una serie di operazioni che sono apte proprio a far conoscere di più il concorso, a farlo crescere, ma soprattutto a creare anche dei workshop. Infatti, io ve lo sto anticipando, ve ne parlerà meglio Dennis. Quindi gli passerei la parola. Grazie a voi. Prendo la parola allora subito, grazie Marco. Sì, magari. Grazie di questa ospitalità. Tra l'altro il tema è molto affascinante, che tratterete tra poco, la fotografia in pellicola, la fotografia con la pellicola. Devo dire che per me questa pandemia, credo di poter dire maledetta, ha avuto una sola, un solo aspetto, solo per me, poi chissà, positivo, e che praticamente il periodo di obbligo a rimanere in casa è coinciso con il fatto che la casa editrice Marsiglio, con la quale sto scrivendo un libro che si intitola La fotografia all'arte del futuro, esattamente nello stesso giorno mi ha restituito le bozze del libro. Nel senso, abbiamo accettato il libro, lo pubblichiamo e adesso ti rimandiamo 350 pagine di bozze da rivedere, da correggere. E quindi ho avuto, l'ho consegnato, l'ho riconsegnato proprio la settimana scorsa, proprio 40 giorni dove ho potuto mettere la testa concentrandomi, eccetera. Ma dico questo non tanto perché, insomma, il libro tanto non è ancora uscito, non posso neanche fare la pubblicità, probabilmente anzi l'uscita verrà ritardata perché un sacco di libri ora sono in coda, in attesa, perché questo periodo di blocco è stato veramente incredibile. Ma uno dei temi che io tratto nel libro, per esempio, ha a che fare con il collezionismo e c'è un aspetto che mi ha sempre molto colpito e che, diciamo, c'è una nuova schiera, posso dire così, di collezionisti che comunque continuano a chiedermi l'analogico. Di fronte allo stesso soggetto, quindi la stessa fotografia stampata da negativo originale su carta ai sali d'argento piuttosto che stampata digitalmente, devo dire che c'è sempre questa tendenza a preferire o il vintage o la stampa analogica. Questo mi ha molto incuriosito perché, devo dire, qua dietro di me, non so se si vede, c'è una fotografia di Ferdinando Scianna tratta dalle feste religiose e naturalmente è una stampa da negativo originale stampata su carta varitata, eccetera. E questo mi ha sempre molto incuriosito perché significa che il collezionista conferma quella tendenza a voler possedere qualche cosa che comunque è più rara. Ed è evidente, questo sarebbe bene, una domanda che vi farò dopo, come dire, vista la quantità di materiali, di stampi originali che hanno invaso il mercato, ritornare all'idea della stampa tratta da negativo originale è sicuramente interessante. Quindi in questo libro tratto di questo tema, ma soprattutto tratto il tema del passaggio dall'analogico al digitale. Io ho fatto il direttore generale di Contrasto per oltre dieci anni e quindi ho vissuto in prima persona questo grandissimo cambiamento. Poi parlo di MOAC e del concorso, ma ci tenevo a dare questi due spunti se sono graditi. Assolutamente. E che a un certo punto noi ci siamo ritrovati con una quantità enorme di fotografie in pellicola, quindi negativi, diapositive, eccetera, e a un certo punto se volevamo andare avanti e non potevamo fare diversamente, dovevamo trasferire questa memoria analogica in una memoria digitale. Ma non si poteva digitalizzare tutto, diciamo la verità, erano troppi materiali, erano tantissimi, molte ripetizioni, insomma. E quindi io ho vissuto in prima persona con tutti i ricercatori iconografici questo passaggio delicatissimo, che era un passaggio che doveva tenere conto dell'importanza della memoria, dell'importanza del fotografo, ma anche della vendibilità delle foto. Non so come dire quali soggetti venivano trattati. Però capite che questa cosa qua ha una responsabilità politica, sociale, etica incredibile, perché sostanzialmente tu decidi che cosa salvare e che cosa lasciare nell'oblio. Ecco, questi sono secondo me due temi giganteschi che probabilmente potrebbero essere trattati al di là degli aspetti tecnici e tecnologici che sicuramente sono anche a voi molto cari per la qualità della stampa, eccetera. Ecco, tutto questo ha a che fare anche con il nostro concorso, che è un concorso internazionale di fotografia, perché comunque nell'attività di promozione e nella volontà anche di coinvolgere tutta una serie di partner e dare anche a questo concorso la possibilità di differenziarsi, di concorsi fotografici ce ne sono tantissimi, forse troppi mi verrebbe da dire, ma non voglio dare dei giudizi. Allora, questo si differenzia perché intanto ha una giuria veramente molto importante, mi permetto di dire, con Sebastiano Leddi, che è il fondatore di Perimetro, che è un collettivo fotografico, che è una piattaforma digitale, e sono quelli, giusto per rimanere in argomento, e anche noi naturalmente abbiamo collaborato con loro, che sono riusciti a raccogliere 727 mila euro vendendo delle fotografie di 100 fotografi per aiutare l'ospedale di Bergamo. Quindi con una posizione precisa da un punto di vista anche sociale nel mondo e nel mondo della fotografia. E quindi è un collettivo di fotografi, è un gruppo che lancia delle call per raccontare delle vicende che ci riguardano molto da vicino. E poi c'è Benedetta Donato, che è una critica giornalista, curatrice, molto conosciuta, e che è molto attenta ai nuovi talenti. E una delle caratteristiche professionali di Benedetta è quella di accompagnare i giovani, magari non necessariamente solo i giovani, a sviluppare un percorso che li può portare a fare un libro, a fare una mostra, a sistemare il proprio portfolio. E poi abbiamo Barbara Silbe, che è la fondatrice di un giornale importantissimo come Eyes Open, che si è sempre occupata di talenti, prima era cartaceo, adesso è digitale, anche lei è una giornalista professionista. Ecco, insomma, con questa giuria noi vogliamo sviluppare, me compreso, anche un'attività di tutoring. Cioè, in sostanza, chi partecipa al concorso e poi chi lo vincerà avrà la possibilità di mantenere un dialogo aperto, coordinato da me, con tutti questi giurati, affinché si possano definire dei percorsi di crescita vicini all'obiettivo e al desiderio di quel fotografo. Voglio fare una mostra, voglio implementare il mio portfoglio, voglio capire come farlo, voglio occuparmi di fotografia analogica, insomma, tutto il desiderio, no? E questo famoso destino che noi... E quindi noi lo vorremmo accompagnare. E questa attività di tutoring è fondamentale, perché questi fotografi che vincono non vengono abbandonati a loro stessi, ma noi li recuperiamo e li accompagniamo nella Galleria di Milano o in molte altre iniziative. Il tutto poi è, in qualche modo, coordinato con un altro grande membro della giuria, che cito per ultimo, perché avrà anche un altro ruolo, che è Nikos Economopoulos, che è l'unico fotografo greco appartenente alla mitica agenzia Magnum, un reporter strepitoso che negli ultimi dieci anni si è molto dedicato ai temi della formazione. Lui è letteralmente in giro per il mondo con i suoi workshop, che definire di street photographer non mi piace tanto, perché è molto di più. Nikos è veramente un personaggio grandissimo, ha fotografato le guerre, ha fatto dei reportage con un'attenzione all'uomo, agli uomini, alle donne, alla dimensione sociale, è veramente molto profondo. Tra l'altro lui si è laureato a Parma e quindi parla un perfetto italiano e a lui abbiamo chiesto di far parte della giuria, ma anche di tenere un workshop proprio nei giorni prima del nostro concorso, perché poi questo concorso trova una serata finale molto interessante, dove ci si incrocia con il concorso legato alla letteratura di queste storie intorno al caffè, dove io ho conosciuto negli anni dei personaggi veramente strepitosi, dei protagonisti della letteratura italiana. Quindi è la fotografia che si incrocia con la letteratura e viceversa. Devo dire che anche lì, in questi incontri, sono nati un sacco di progetti. Ecco, quindi questo in poche parole. Poi, certo, daremo dei premi. Il primo premio sarà una macchina fotografica professionale, ma tutti gli altri premi sono dei libri di fotografia, perché è importante, è giusto ribadire che la fotografia non è mai solo un fatto tecnico e fine a se stesso, ma è pensiero, è approfondimento, è creatività. Quindi noi vogliamo sostenere questa teoria, vogliamo essere coerenti, vogliamo accompagnare i nostri fotografi in un percorso che è un percorso professionale, è un percorso culturale ed è una presa di coscienza sul mondo. Spero di non aver dimenticato niente. No! Peraltro, voglio dire una cosa, io ho visitato l'azienda, ho visitato la Moac e in un paio di occasioni ho trovato un'azienda incredibile, sia anche banalmente per il fatto, parlo del punto di vista anche di un tecnico da un certo punto di vista, cioè sono un fotografo, mi sono occupato di comunicazione per anni, ho collaborato con agenzie di comunicazione, ne avevo una, insomma, entro alla Moac e mi trovo un'agenzia di comunicazione interna, quindi un gruppo di creativi che stanno lì quotidianamente a portare avanti un lavoro strepitoso. mi trovo dentro un'azienda super organizzata, un'azienda che ha una certa attenzione per l'appunto ai temi culturali, perché da una parte organizza questi concorsi, dall'altro sostiene anche il nostro progetto di corsobase di fotografia.it, quindi non posso chiaramente che fare i complimenti a Marco che rappresenta qui l'azienda e a Dennis vi faccio i complimenti perché state portando avanti ognuno nel suo ambito un lavoro formidabile. Grazie. Grazie Alessandro. Chiaramente siete tutti invitati, il minimo. Io ho partecipato anche alla serata di premiazione ed è un'occasione incredibile, secondo me, ora dico una cosa che non c'entra, ma chi ne ha voglia potrebbe tranquillamente poi fare un giro anche in qualche città lì vicino perché ci sono dei posti vicinomodica da vedere che sono assolutamente fantastici per chi non conosce la Sicilia o anche per chi come me vive in Calabria ma poi magari vola più facilmente verso Londra piuttosto che andare a fare qualche centinaia di chilometri in auto qui vicino. Volevo aggiungere solo una cosa Alessandro che ho dimenticato prima di dire che secondo me è molto importante cioè che a differenza di molti concorsi di fotografia questa giuria è una giuria che ha dei giurati che hanno mansioni molto diverse perché ci sono giornalisti che ci sono curatori fotografi art director infatti sono anche collegati ad AIAF e art director club perché la voglia è quello di avere dei punti di vista diversi a seconda della 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 professione cioè quindi non una giuria di tecnici ma proprio giurie che abbiano una sensibilità diversa proprio per per avere per dare il proprio apporto appunto nel voto a quel a quell'opera e questa per noi è uno dei punti di forza come un'altra un'altra cosa importante che non è che non è stato detta è il fatto che che la la volontà dell'azienda sia con il concorso letterario che con con il concorso fotografico è quello di proprio di osservare come la nazione nel caso del letterario nel caso più ampio internazionale del fotografico di come si fotografa o cosa si fotografa in quel in quel determinato anno quindi la la volontà è quella di andare oltre no anno dopo anno per poi avere questo questo database e osservare cosa il fotografo anche non professionista voleva immortalare con i suoi tre scatti vogliamo ricordare il sito web si fuori fuori trattino fuoco punto punto com ok fuori trattino fuoco punto com e qui trovate il il bando via via verranno aggiunti i giurati che ci avete svelato in anteprima se non ho capito male esatto però via via il sito verrà aggiornato la scadenza del bando se non ho capito male se non ricordo male è settembre quindi abbiamo ancora qualche mese di tempo per creare i nostri elaborati e inviare le nostre fotografie 14 ottobre 2020 ok 14 ottobre perfetto e anche se come dicevamo prima con tutti i caffè che siamo presi in quarantena in questo periodo insomma potremmo magari sfruttare questa occasione per farci venire qualche idea e parlare in un modo originale in un modo nuovo del tema del caffè insomma esatto grazie allora grazie molte grazie per l'occasione buona diretta arrivederci grazie mille buona diretta grazie grazie eccoci allora faccio un attimo ok adesso siamo rimasti in tre con il resto di due esatto partirei subito con mostrare queste tre fotografie che mi ha mandato qualcuno cioè il buon Giuseppe e Andretta che ringrazio insomma che cosa stiamo vedendo Giuseppe io sto io sto guardando i miei ricordi di ragazzo la prima che hai visto quella con la bandiera americana ho trovato solo quella però insomma ho un baule di coda chrome scattate tra gli anni 80 e 90 e ho trovato solo questa perché non di tutte ho fatto le scansioni poi l'altro invece era un lavoro di fatto quando io ero assistente fotografo e sono degli scatti rubati in un servizio di di moda insomma in cui dietro le quinte facevo qualche scatto e poi qualcosa poi tra l'altro queste sono bruttissime perché sono state fotografate e queste invece sono proprio credo fotografie che ho scattato quando avevo 15 o 16 anni sono in diapositiva e quella che vedete è praticamente la casa dei miei genitori prima che venisse restaurata quindi so che il restauro è stato fatto intorno all'85 e queste foto sono di qualche anno prima insomma credo 81 82 in diapositiva perché all'epoca scattavo o negativo in bianco e nero o diapositiva e quelle che vedete in bianco e nero sono poi trasformazioni però ecco per me sono i primi ricordi della fotografia in quasi in assoluto insomma gli anni in cui sono state scattate non c'era nemmeno l'alba del digitale insomma ecco queste invece sono molto più recenti sono delle foto che ho fatto a mia madre negli ultimi due anni felicissimo di averle in negativo in pellicola perché è mancata 5-6 mesi fa e quindi sono molto felice di avere questa cosa questi album credo almeno una ventina di rulli fatti tra 35 mm e 6x6 insomma quelle che vedete in taglio quadrato vedete che non sono pulite insomma ecco è questo l'uso della fotografia analogica che faccio io cioè tutte le cose diciamo a cui ci tengo in maniera particolare un po' intime no? le situazioni di casa poi ti avevo mandato degli scatti anche se so che mi attirerò l'odio dei miei familiari perché appunto in pellicola è questo è il tipo di foto che io faccio sicuramente non ecco queste sono le mie figlie sono tutte delle provinature da dentro all'Aitrum come vedete insomma ecco questa è la simpatica di mia figlia metterei in pausa su questa immagine perché eh sì qui si vede il DNA come come viene tramontato non mente il DNA non mente sono le vacanze dell'anno scorso fatte con tutte e due loro e insomma e sono le foto di famiglia io ho due anni che non che quando vado in giro faccio le mie uscite fuori porta o qui per esempio i ritratti che faccio a mia figlia ogni tanto quando viene a trovarmi perché la più grande vive a Verona e non qui e quindi uso questo mezzo poi sono felice perché appunto le stampo tutte intanto a differenza delle digitali che ne stampo solo qualcuna e qui invece stampo tutto e quindi abbiamo parecchi album di famiglia a cui ci tengo insomma nella mia libreria non ci sono soltanto un bel po' di libri fotografici ma tra questi ci sono anche degli album e sì qui ti avevo mandato un po' di sfogliati velocemente sono alcuni album di famiglia miei vedi i classici ricordi io credo che queste cose insomma sono cose che non non si stanno facendo più insomma non a meno che appunto in questo caso qui uno non si metta lì nel periodo di quarantena come ho fatto io a ritirare fuori tutte le vecchie foto e sistemarsene in un album questa ecco sarebbe stata un'ottima occasione però ecco quello che volevo dire io è che io sto continuando per questa strada anche ora insomma non soltanto con le foto vecchie ma c'è una parte di foto appunto che io ci tengo particolarmente a farmela in pellicola anche qui per esempio questo è il paese dove vivo io la piazza completamente vuota insomma queste cose qui e quindi quella mattina io sono uscito anche perché abito proprio lì sotto a quei portici e sono uscito una mattina proprio però non mi è venuto da prendere la fotocamera digitale per fare questo tipo di fotografie ma tu hai detto prima sono contento di avere queste foto a pellicola non in digitale ma spiega questo concetto perché secondo me è la chiave del tuo amore e della tua passione per la pellicola ma sì perché allora innanzitutto c'è tutta una cosa c'è tutto un lavoro manuale dentro dietro a queste fotografie che come ti dicevo l'altro giorno al telefono per me è sempre stata una cosa molto importante tu lo sai benissimo che io non faccio il fotografo di professione e di conseguenza io non vivo di fotografia e quindi posso permettermi ovvio che se fossi attualmente un fotografo professionista scatterei in digitale però probabilmente queste foto qui che non andrei comunque a proporre a nessuno a vendere a nessuno le scatterei comunque in pellicola ma la cosa che più mi affascina è lo sviluppo cioè queste cose qui me le sono sviluppate io mi sono fatto delle scansioni ovviamente per poi mandartele ma anche per tenerle no però qui per esempio ecco io qui stavo andando su in Trentino per lavoro quella mattina lì mi sono caricato in macchina la Rolley e sapevo che facevo il San Pellegrino quindi mi sono fermato in quel posto lì che conoscevo e ho fatto tutta una serie di foto con la mia Rolley che poi è bello perché fai 12 scatti e hai finito non è una scheda che è un 3000 4000 scatti le pensi ogni foto che fai non è sicuramente improvvisata è pensata è inquadrata è sviluppata e quindi ecco dietro con me tipicamente invece di mettermi la digitale vi tengo questo questa è un'altra foto è molto surreale è scattata in fila in autostrada mentre andavo su Indurst che è un'azienda con cui collaboro se qualche appassionato visto che il tema è l'analogico si ricorderà sicuramente gli ingranditori di Durst che loro purtroppo non producono più da anni però l'azienda è viva e vegeta anzi sta benissimo io ho una collaborazione con loro da circa 6 anni per tutto l'aspetto delle stampanti digitali e dei profili di colore però questo è un punto in cui si entra in Bressanone dall'autostrada ed è impressionante perché c'era quel viadotto lì e poi c'è tutta quella parete rocciosa dietro questa è una Portra 160 scattata credo non mi ricordo se l'ho scattata esattamente con una Nikon F o con una Olympus Mew di quelle compatte che quella per esempio anche quella è sempre in valigetta fantastica Alessandro che non mette a fuoco comunque Alessandro che ne pensi di questo approccio tu come mai fai l'uso di fotografia il mio approccio è totalmente diverso perché benché sia ho iniziato scattando a pellicola negli anni inizi anni 90 però insomma poi ho avuto uno stop per poi ritornare a scattare in pellicola e poi sfoggiare nella stenopeica addirittura per una necessità mia intima di liberarmi del digitale di liberarmi di quello che è dell'eccessiva perfezione che mi dà il digitale la possibilità in questo caso nella stenopeica di realizzare degli scatti dove il fuoco è molto morbido c'è una caduta di luce ai lati che incanala la visione quindi di ottenere dei risultati che non sono assolutamente paragonabili con dei lavori in digitale mi permetti di avere il risultato che avevo in mente perché il risultato che solitamente entra in mente è quello di di avere un'atmosfera sognante di rappresentare un po' quella che è la mia visione di fotografia attraverso i sogni e in queste fotografie abbiamo dei classici esempi anche se tutte queste foto non sono tutte mie ma sono di alcuni componenti del mio gruppo di lavori in stenopeica questi sono dei lavori di Dwayne Michaels che scorrono velocissimi non riesco a seguire ok no vabbè è uguale non è un problema Dwayne Michaels è un fotografo americano molto concettuale benché sia un coetaneo ormai di Ansel Adams e di Cartier Bradson però è stato uno dei primi a affrontare la fotografia tramite questi scatti in sequenza in storytelling e attraverso una una rappresentazione molto concettuale del messaggio infatti qui è molto evidente come passi da uno scatto all'altro cercando di dare la sua idea di cosmo intorno a quello che è l'uomo quindi è molto profondo come autore questo è uno degli autori che mi ispira tantissimo per un'altra foto che avevamo eccola qui ecco qua questa è la foto vediamo se ok vediamo se riesco a parlare in una serie di otto foto l'autore che tra l'altro con una tecnica non da poco visto che lavora in analogico ha rappresentato come un angelo sia caduto tra le braccia di una donna e sia poi diventato un uomo perdendo le ali e quindi è molto profonda anche questa è uno degli autori che mi ispira tantissimo a livello concettuale bene bene quindi diciamo la tua idea quindi è una fuga dal digitale dall'eccessiva percezione è una sorta di rifugio io adesso farò una confessione cioè chi mi conosce già lo sa quindi niente di nuovo però sono un amante allora mi occupo di fotografia tra le altre cose di paesaggio la fotografia di paesaggio si basa su un concetto è quello dello sguardo lento dall'altra parte diciamo nella mia vita personale sono un amante del fumo lento e questa cosa ci accomuna nel senso che con Alessandro in particolare ci siamo fatti tante serate fumando assieme anche con Andretta in realtà solo che Andretta non è un amante dei sigari ecco come me no come? puzzano secondo me esatto secondo lui puzzano quindi io lo massacravo facciamo delle grandissime serate anche con Marco Casino che salutiamo riempendogli continuamente il bicchiere fumando tutti assieme però ecco in qualche modo io ho l'impressione Alessandro che il fumo lento che è anche una tua passione abbia in qualche modo qualcosa a che fare con questo modo di intendere la fotografia esatto perché nei miei lavori ogni singolo ricordo ogni singolo scatto non ricordo ogni singolo scatto per quello che è ma ricordo che nel mentre scattavo la fotografia per esempio di Cosenza con i goti in miniatura è passato un signore si è fermato mi ha chiesto che cosa stavo facendo che cosa era quello strano aggeggio che poi sarebbe questo la mia la mia stano e mi sono fermato lì gli ho spiegato di che cosa si trattava non riusciva a capire pensavo fosse una radio vecchio stampo insomma infatti spiegacelo perché se no magari ci segue che cos'è questa questa aggeggia la macchina fotografica stano pay che non è altro che una camera oscura quindi vediamo se riesco ecco qua eccola qua è una macchina fotografica portata all'essenziale ve la faccio vedere anche nella sua parte interna c'è soltanto un diaframma quindi abbiamo solo un F ok un'apertura che in questo caso corrisponde a un F122 se non erro eccolo qua il foro piccolissimo e poi non c'è altro che uno spazio in cui inserire la pellicola non c'è nient'altro una scatola vuota quindi una scatola oscura stavo cercando questa foto da mostrare ecco eccola qua questo è proprio devo ringraziare il mio amico Guido Guglielmelli che mi ha fatto la foto mentre scattavo prima abbiamo visto anche alcune sue fotografie perché è bella questa cosa non tanto per il feticismo dell'attrezzo perché sì voglio fare il figo con la scatola di legno per strada no ma perché ogni volta da quando utilizzo questo mezzo ogni volta che pensa ad un lavoro in realtà pensa alla macchina fotografica in funzione di quel lavoro quindi c'è uno step in più rispetto alla classica fotografia cioè progettare una macchina fotografica che sia funzionale perché alla fine è una scatola di legno anche se carina ma è una scatola di legno che sia funzionale al risultato che voglio ottenere di questo ne da alcuni miei amici colleghi eccetera ne danno degli esempi fantastici come Marco Palmioli o Valentino Guido che poi è l'autore di queste scatole perché è lui che ha la maestria per costruire queste cose io non ne sarei assolutamente capace e quindi questi sono dei negativi di un lavoro di Valentino Guido che poi per me è un po' l'apoteosi di questo tipo di ragionamento perché si è presentato da me qualche anno fa dicendo mi sai siamo amici ho in mente questa cosa eccetera mi ha parlato di queste scatole del foro eccetera io non ci ho capito nulla però mi disse mi dai una mano vieni con me io sì ok ho accettato più che altro perché devo essere onesto mi interessava anche il discorso di fotografia di archeologia industriale che poi sarei andato a fare insieme a lui mentre invece lui avrebbe portato avanti questo lavoro l'ho seguito e lui ha piazzato le sue belle scatolette che alla fine hanno dato questo risultato come funzionano queste scatole in realtà fanno una fotografia che dura 200 giorni di esposizione quindi le strisce che vedete in alto a destra sono i passaggi del sole quotidiano perché questo tipo di lavoro questo tipo di lavoro è stato realizzato con la precisa volontà di rappresentare l'immobilità di questi luoghi sono tutti luoghi che dovevano essere il volano la spinta industriale della Calabria mentre invece sono rivelati dei veri e propri flop o quantomeno hanno funzionato per un po' in alcuni casi ma si sono spente dopo poco o altre volte proprio non sono proprio partite questo è lo GR sì che peraltro mi sono fermato su questa perché c'è un aneddoto che riguarda anche me in questo caso nel senso che vi ho beccati quando siete venuti a non so se a lasciare la macchina o a recuperarla quindi il primo giorno il duecentesimo giorno ma vi ho beccati in un ristorante a mangiare sì perché poi il fine ultimo secondo me del vostro collettivo dici la verità allora il bello anche quello è un altro lato divertente ci riuniamo io Valentino e Guido Guglielmelli in un collettivo che ormai simpaticamente abbiamo chiamato gli stenopatici e anche questa è una foto sulla quale poi vorrei tornare dopo in cui poi alla fine il fine ultimo qual è è quello di ritrovarsi nella camera che abbiamo adibito a camera oscura che è una quindi non abbiamo una testa ci riuniamo sviluppiamo mettiamo tutto ad asciugare dopodiché si passa buon cibo soppressate e il sigaro e il sigaro per tutti quindi anche quello fa parte del lavoro diventa un momento di convivialità ricordo la scena in cui distratti abbiamo al buio è fatto un errore quindi un rullo è andato perso probabilmente ce l'ho anche qui studia ancora come ricordo quindi totalmente bianco un rullo 6 6x6 totalmente bianco ma anche quello fa parte del gioco anche quel rischio mi dà quel pepe in più rispetto al classico scatto digitale ecco qua è tornata quella foto è particolare perché è stata piazzata davanti ad una centrale a Vibo Valencia davanti al cimentificio nel momento in cui l'abbiamo piazzata c'era questa centrale elettrica che però durante i 200 giorni è stata smantellata quindi quando siamo rientrati lì ritornate a prendere la scatola dopo 200 giorni non c'era più la centrale infatti pensavamo di aver sbagliato posto infatti se notate c'è un lato più buio in cui i soggetti sono molto più nitidi e c'è un altro lato quello destro in cui i soggetti diventano evanescenti quindi letteralmente si vede lo smontaggio della centrale durante quei giorni quindi anche è stata smontata tra l'altro io una cosa volevo dire cioè questo lavoro gli ha fruttato dei premi anche a Valentino quindi però mi sembra ecco interessante il fatto che in questo caso l'utilizzo di un determinato mezzo che ha delle regole si sposi in qualche maniera con quella che poi è la natura del progetto cioè stiamo raccontando dei luoghi che tranne questa centrale che è stata smantellata sono lì da decenni e quindi li puoi fotografare anche per 200 giorni e non cambia nulla in questo paesaggio nella maggior parte dei casi tranne appunto quando vi smontano la centrale però torniamo al nord-est italiano adesso perché se no se parliamo troppo di Calabria poi io vorrei capire dal buon Andretta ma quando abbiamo iniziato quando hai iniziato a fare a fare fotografia analogica a fare sviluppo prestissimo Alessandro io ti dico ho iniziato a incuriosirmi di fotografia proprio da sbarbino insomma come si dice in Romagna perché mi ricordo che in seconda e terza media i miei avevano un bar quindi i giornali quotidiani queste cose qui li leggevo tutte le mattine prima di andare a scuola e guardavo e non sono mai stato appassionato di sport però lo sport come ovviamente a 13 anni le donzelle nude quando le vedevo quando vedevo queste foto così le prime foto a colori perché stiamo parlando della seconda metà degli anni 70 ero molto intrigato non so come ma la tecnica fotografica il mezzo con cui venivano riprese poi stampate queste foto mi ha sempre incuriosito e infatti me la sono portata dietro tuttora visto che come pensai anche te io ho sempre fotografato ma ho anche sempre stampato quindi all'età di 13 14 anni all'epoca non c'erano queste grandissime scuole di fotografia e quindi io faccio un corso per corrispondenza di fotografia e c'era chi ha la mia età se lo ricorda bene come adesso adesso non so se esiste ancora comunque anni fa c'era la CEPU ai miei tempi c'era la scuola radioeletra di Torino che tramite fascicoli settimanali no potevi diventare che ne so comunicatore radio antennista elettronico elettrotecnico e c'era questo corso di fotografia che io ho iniziato mi arrivavano questi fascicoletti e e poi ti arrivavano anche dei pezzi quindi nel giro di un anno un anno e mezzo io avevo la mia cameretta oscura e già a 14-15 anni facevo i miei esperimenti in pratica in una soffitta in casa insomma ecco quindi come è sempre stato no c'è una una parte di fascino per la fotografia in sé cioè per l'immagine proprio per l'iconografia per la rappresentazione eccetera eccetera ovvero la fotografia come mezzo di comunicazione no cioè l'aspetto anche semiottico della fotografia però ho anche tutta una parte di curiosità io sono sempre stato un grandissimo curioso fin da piccolo smontavo tutto leggevo tutto quando mi appassionavo di farfalle andavo a prendermi l'enciclopriale non è vero ma qualsiasi cosa che mi abbia intrigato io sono sempre andato giù molto di brutto e quindi con la tecnica fotografica è stata così quindi ho cominciato praticamente da solo a sviluppare negativi a stampare a provinare eccetera e poi la svolta è stata intorno ai 23 24 anni quando dopo aver rotto le palle praticamente al fotografo sotto casa per anni cosa che tra l'altro ecco un aneddoto che credo abbia colpito tutti quelli che si sono appassionati di fotografia analogica ai miei anni io quando avevo 14-15 anni appunto andavo a rompere le palle a questo fotografo per dirgli ma com'è che si carica il rullino ma com'è che si fa così com'è che si fanno i notturni com'è che si fanno le doppie esposizioni a un certo punto questo qui mi ha detto vieni con me ti porto in camera oscura e lui mi ha chiuso in camera oscura stava stampando dei matrimoni e io mi ricordo che a 14 anni ho guardato così mi sono affacciato nella vasca e ho visto la stampa che emergeva nella bacinella dello sviluppo e quella secondo me per chi ha assistito a questa scena cioè o si è appassionato di fotografia di fronte a questa scena o è qui oggi a non festeggiare il 25 aprile perché ha qualche tema di sensibilità quello è un discorso sì è totalmente magico molto è da tantissimi anni insomma perché se pensi che ne ho 55 sono almeno 40 anni che sono intrigato da questo mezzo che è la fotografia to cure insomma poi che sia digitale che sia analogica ecco io non sono di quelle persone lì quindi non ho dei freni non ho delle riserve quindi non è che apprezzo solo se la fotografia è analogica o solo se la fotografia è digitale la fotografia ha un senso molto ma molto più ampio quello che riguarda me personalmente è che a differenza di tanti fotografi per esempio mi è sempre intrigata la tecnica quindi anche qui ecco questi sono i ritratti tu conosci bene è il corso base di fotografia che ho fatto a Padova l'anno scorso e all'ultima serata io ci tenevo a fare un ritratto stavamo parlando del ritratto in studio io mi sono portato la mia a Rollei nella penultima credo penultimo terzo insomma alla fine del corso gli avevo fatto questi scatti e poi all'ultima serata glieli ho portati appunto ritagliando anche il negativo gli ho consegnato una piccola stampa con il negativo a ricordo del corso base di fotografia ma è un super omaggio sì ma era più che altro perché abbiamo parlato abbiamo fatto il corso abbiamo parlato di vari autori abbiamo fatto le uscite ovviamente tutti con la fotocamera digitale io compreso però c'era la serata del ritratto in studio in cui gli ho chiesto appunto di poter fare questo ritratto ovviamente ho detto che poi le avrei regalate ma era soltanto per fargli vedere appunto come si faceva la fotografia una volta che poi voglio dire esatto tu hai detto una cosa pazzesca cioè gli hai regalato loro il negativo in effetti la differenza sostanziale che c'è probabilmente tra la oltre alla non ripetibilità ma insomma tra la fotografia digitale e l'analogico è proprio il fatto che tu dai qualcosa di fisico che tu hai un supporto fisico su cui conservi una memoria un documento Alessandro questo è il motivo per cui per esempio e non è tanto che mi è tornata la passione per l'analogico perché poi io nel 95 96 ho detto bye bye tutto venivo tra l'altro da delle esperienze in cui avevo una responsabilità tecnica in uno studio fotografico cioè dove si sviluppava per esempio sviluppavamo esclusivamente sviluppavo esclusivamente lastre 13 18 9 12 sulle macchine jobo quindi era una cosa di grande responsabilità e io lo facevo ben volentieri perché c'era tutta una tecnica io mi ricordo che già gli anni in cui iniziai a lavorare in camera oscura mi lessi libri di chimica cioè ero intrigato mi ricordo una certa signora Galbiati che era una chimica probabilmente di Kodak e io dal laboratorio ogni tanto quando avevo problemi chiamavo questa signora lei mi dava le formule io le componevo e sistemavamo i problemi chimici ed era una cosa affascinante come poi negli anni per esempio mi sono intrigato da matti della post produzione digitale quindi anche lì mi sono messo a studiare ho cominciato a fare la certificazione Adobe e poi sai sono cose che anche quello che scrivo gli articoli no? raramente lo faccio per dare esibizione di me stesso credo che tu mi conosca abbastanza per poterlo dire ma io lo faccio perché ancora in maniera molto infantile io devo dimostrare a me stesso di essere capace non so se c'è qualche psicologo qui che possa dirmi se ho avuto problemi conflittuali con i miei genitori perché mi trascino dietro questo complesso però io devo sempre quando mi intrigo quando mi piace quando mi affascina un argomento io faccio veramente sputo sangue per arrivare a dei risultati che poi ecco non è che vada a pubblicarli a vantarmene eccetera no? li faccio li lascio lì e questo per me mi riempie no? mi dice ok ce l'hai fatta anche su questo e va bene così insomma adesso smettiamo e passiamo un altro argomento perché io proprio così non sono uno che si fissa nelle cose per tutta la vita anzi credo che proprio il fatto di avere proprio delle come si può dire delle costanti no? avere sempre queste convinzioni queste posizioni ferre per tutta la vita dimostri il testardaggine più che intelligenza ecco ma peraltro è interessante il fatto che tu dici di comunque si tratta di un approfondimento ecco cioè l'idea è quella di innamorarsi di un qualcosa di un tema di un argomento di un mezzo che ci consente di esprimerci e poi però caspita ci studi su cioè ti sei appassionato alla postproduzione fotografica e sei diventato uno dei più famosi docenti da non so quanto tempo di photoshop di lightroom eccetera ti sei appassionato di stampa da 16 anni da 16 anni il primo etame di photoshop che ho superato è stato 16 anni fa lo stesso con la stampa hai un laboratorio che stampa per la Biennale di Venezia lo stesso in tutti gli ambiti in cui ti metti poi ci vai giù dritto e ti dai tanto da fare questo secondo me è importante da rilevare da toccare allora anche l'esperienza digitale di stampa per esempio che è nata 4 o 5 anni fa per cui anche questo tipo di attività è stata una sfida io non facevo cioè io ho stampato e sono stato un tecnico di laboratorio E6 C41 i vari processi appunto fino agli inizi degli anni 90 e poi da metà degli anni 90 io sono diventato uno stampatore digitale avevo una società che poi ho lasciato nel 2004 appunto per mettermi a fare consulenze e basta però anche poi appunto nel 2015 quando abbiamo tentato l'esperienza fine art è vero mi sono buttato a picco cioè avevo i miei contatti avevo le mie competenze però sono andato a selezionarmi le stampanti che secondo me avevano il gamut più grande quando poi abbiamo rotto la prima stampante l'abbiamo convertita con i piezzografi in bianco e nero sono andato a rompermi le scatole a prendere il K7 e poi a profilarmi tutte le curve delle varie densità dei neri con l'I1 poi appunto il mio assistente mi ha detto perché gli avevo fatto notare che secondo me la stampa era leggermente rosa e gli avevo chiesto ma scusa Andrea sei sicuro di non aver inquinato perché adesso non voglio fare è troppo lunga la cosa del K7 hai questi inchiosti che vuoti con le siringhe li cacci dentro alle cose e c'è un liquido che è rossastro nelle testine vuote quindi vedo sta stampa e gli dico Andrea non è che per caso non hai risciacquato la siringa cioè è possibile che sia entrata perché a me sembra rosa e lui mi guarda e mi dice ma qua ti sei fumato cioè è bianco e nero sono inchiostri no gli ho detto guarda che secondo me c'è qualcosa che non va andiamo a vederla alla luce del sole alla luce del sole quasi lo avevo convinto perché io sono cieco nel senso che porto i miei occhiali da stigmatico ma con i colori passo sempre tutti i test di Munsell ogni anno e mi fa bah secondo me è un'impressione gli ho detto vabbè facciamo così stampiamo un target e lì la differenza che rilevava lo spettrofotometro era minima però ce l'avevo lì cioè io quindi a un certo punto ho vuotato la boccia cioè ho preso una goccia l'ho vuotata in una carta cotone l'ho lasciata asciugare l'ho misurata con lo spettrofotometro e gliel'ho mandata negli Stati Uniti dove producono gli inchiostri e gli ho detto secondo me questo inchiostro è a rosa o ha una contaminazione eccetera eccetera perché dopo 15 giorni beh la risposta subito immediata è stata no assolutamente noi la formula chimica dei nostri inchiostri la controlliamo eccetera eccetera non è possibile dopo 4 o 5 ore perché gli americani sono testoni ma sono anche precisi dopo 4 o 5 ore mi arriva una mail con le scuse dicendo guarda avevo letto velocemente dal cellulare sono tornato in laboratorio per favore se mi dai il codice perché ogni boccetta ha un numero di produzione gliel'ho mandato ha verificato ed era rosa in qualche maniera lui si è contaminato una partita capito a me ha mandato un paio di bocce in omaggio eccetera eccetera la cosa preoccupante è che prima del coronavirus io le vedevo blu il presidente mi ha detto beh perlomeno adesso per un mese e mezzo non rompi le palle statene a casa tua e poi il blu lo rivediamo lo rivediamo quando torni quando torniamo ma invece ritorniamo al laboratorio calabrese insomma ad Alessandro tu da dove hai iniziato invece quali sono gli autori che in qualche modo ti hanno ispirato allora gli autori base sono sono quelli del paesaggio italiano no Basilico Ghirri eccetera però poi la strada mi ha portato verso per esempio Kenna che stiamo vedendo adesso che ha uno stile molto particolare in cui a me piace dire che distilla le fotografie no perché con i tempi che utilizza il lavoro di camera oscura che va a fare riesce a tirare fuori i soggetti dalle foto e eliminare tutto ciò che non gli interessa quindi porta la fotografia all'essenziale sono tutti i fatti fatti con Hasselblad a pellicola in sé per sé ci è ignota la pellicola che utilizza perché se la tiene ben segreta è il caro amico Kenna anche se qualcuno magari proverà a indovinare però la parte che a me piace di più e che mi dà soddisfazione è questa capacità di estrarre il soggetto da tutto il resto del contesto da eliminare tutto ciò che non gli interessa la fotografia e lasciare quella componente importante il clou della fotografia da un certo punto di vista è un fotografo che viene citato molto cioè le tecniche che utilizza vengono condivise da tantissimi autori che si dedicano alla fotografia naturalistica quindi queste pose lunghissime questi specchi d'acqua completamente fermi creati proprio grazie a questa tecnica però in qualche maniera io ho l'impressione guardando le sue foto che ci sia una firma particolare nei suoi scatti cioè che sia comunque diverso poi da tutti gli altri che fanno che usano la stessa tecnica perché poi la fotografia da un certo punto è quella firma che l'ha portato a fare le campagne pubblicitarie ai tempi della pellicola quindi niente mock-up niente strane magie con Photoshop 3D a fare campagne per Audi Maserati BMW Chrysler quindi voglio dire portare il soggetto alla massima espressione nella fotografia e nello scatto è la sua specialità insomma qui invece abbiamo Iodice del quale adoro questa capacità di non rendere banale ciò che è una persona comune fotografandola la rende banale e quindi dare questo dinamismo concentrare la foto senza renderla banale e comunque dandogli un ritmo una leggibilità insomma su Iodice se ne potrebbe parlare tantissimo però queste sono le componenti che a me attirano e mi danno la motivazione per prendere spunto spesso prendere spunto da questi scatti beh per esempio poco fa guardavamo assieme prima di iniziare la diretta questo altro vostro lavoro del collettivo allora c'è tutta questa tradizione dei vattienti in un paio in realtà di città calabresi una è proprio vicino casa tua e quello che succede è che queste persone escono per strada colpendosi causandosi delle ferite è una tradizione antichissima e fanno tutto un percorso per le vie del paese una sorta di via crucis potremmo dire anche se non esattamente così però ok e e quindi ho guardato queste foto e ho detto ma scusami ma perché avete lavorato con la fotografia stenopeica in un contesto di quel tipo e la mia prima risposta fu non per fare i fighi ed è ed è la verità non è non è una scusante la verità è che in realtà il lavoro è venuto fuori dopo 4-5 anni di visita in questi luoghi addirittura uno di noi ha sposato una una nocerina quindi nocerese anzi scusa non me ne voglia però allora la prima volta sono andato non riuscendo a scattare cioè non è stato possibile perché la situazione era così forte così a tratti anche cruenta da non non permettermi di scattare non ne avevo il giusto animo sono tornato un altro anno sono riuscito a scattare in digitale e ho tirato fuori una cosa che poi unitamente insieme alle amici è venuta fuori che erano degli scatti stereotipati osservando e studiando anche i lavori di altri autori che hanno scattato questa situazione era molto ma molto banale poi un'altra motivazione è che poi parlando con alcune di queste persone che compiono questo rito ci siamo resi conto che loro non amano ostentare questa cosa non amano essere fotografati quindi avevamo l'esigenza anche di essere rispettosi nei loro confronti devo dire che dopo che abbiamo pubblicato queste fotografie abbiamo ricevuto anche degli assensi in tal senso è stata apprezzata questa nostra volontà di non rendere il rito rito covento anche se tale è poco da discutere il tempo lento e quindi abbiamo utilizzato tempi lenti come si vede bene in questi casi la stenopeica che non dà un grandissimo dettaglio e quindi qui quando abbiamo scattato le foto abbiamo detto non abbiamo scattato delle foto a delle persone abbiamo scattato delle fotografie alle anime delle persone perché in questo caso non vediamo dei soggetti fermi vediamo quasi un fantasma e quindi siamo riusciti nel nostro intento volutamente nella post produzione abbiamo lasciato quelle che sono diciamo lo sport esterno del negativo che dà questa visione quasi un po' diciamo di sogno e qui invece che succede questo è il pensiero di uno del gruppo Valentino Valentino Guido in cui qui il pensiero è ancora più profondo vi faccio vedere l'attrezzatura con la quale è stata scattata è sempre una stenopeica però questa volta ha si vede ok ci sono 13 fori questi 13 fori sono praticamente la trasposizione dell'oggetto con il quale il battiente che è colui che compie questo rito si percuote il corpo e quindi ci sono questi 13 diciamo spuntoni di vetro che una volta che colpisce la carne provoca la ferita quindi in questo modo replicando questa cosa sulla fotografia abbiamo in qualche modo fotografato i soggetti attraverso questi 13 fori quindi replicando questo oggetto quindi è ancora un po' più profonda la cosa perfetto perfetto e questo diciamo da un certo punto di vista lo trovo interessante c'è proprio il fatto di azionare il cervello prima creare un progetto che sia usare il mezzo tecnico esattamente lo scopo dell'assenopeica non è quello del puro gusto feticista di costruire la macchina che è un bel attrezzo eccetera di scattare in pellico ma è che c'è sicuramente c'è e poi diventa anche bello dà una soddisfazione il mio amico Palmioli lo sottoscrive questa cosa che dà un'estrema soddisfazione costruire la macchina che poi ti dà dei risultati ovvio pensate se avessimo ognuno di noi la possibilità di costruirci la nostra bella reflex digitale sarebbe una gran cosa saremmo tutti più legati questa è una delle fotografie di Palmioli e fa parte di un lavoro molto particolare perché lui è di Recanati e in merito alla fotografia lettera di una madre di Salvatore Quasimodo praticamente compie un volo attraverso la macchina fotografica che scrive la poesia di Salvatore Quasimodo e quindi lo fa prima a distanza come in questa foto poi lentamente si avvicina si avvicina quindi sempre di più si mette proprio davanti al foglio poi addirittura davanti ai martelletti quindi dall'altro lato della visione quindi lato foglio e poi dall'alto dove si vedono le mani che compiono l'atto di scrivere la poesia e quindi qua c'è un incontro tra poesia e fotografia quindi non si capisce bene se è una foto o una poesia c'è un'unione molto particolare eccolo Marco ed è il lavoro che a me ha affascinato perché è quello che letteralmente mi ha portato a dire questa stenopeica ha una potenzialità che mi piacerebbe sfruttare ed è quello che ho fatto facciamo una cosa ritorniamo nel nord-est e poi andiamo secondo me in chiusura così lasciamo anche qualche minuto per le domande perché già ne stanno arrivando io vorrei sapere da Giuseppe che cosa in che modo la sua permanenza la sua villeggiatura in Calabria ha a che fare con la fotografia analogica è la madre di tutte le cause del ritorno analogico infatti a me ragazzi sto covid-19 40 giorni a casa mi fanno una adesso non voglio essere volgari io ho fatto sei mesi a casa nel 2017 ok dopo che però un chirurgo calabrese mi ha salvato la vita e questo lo dico con tanto 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 tanta gioia insomma perché sapete benissimo di cosa sto parlando voi che siete calabresi sapete benissimo di quanti problemi abbia la vostra regione come la mia tra l'altro però da un punto di vista appunto ospedaliero sanitario insomma io devo soltanto ringraziare perché se sono qui a parlare con voi è proprio grazie all'ospedale di Crotone dove mi hanno operato ad urgenza ma mi hanno insomma in pratica salvato la vita da un'occlusione intestinale che avessi quindi una bella non avevo un'influenza ecco mi hanno aperto l'addome in due e hanno risistemato tutte queste budelle intorcolate questo è un po' quello che è andato e lì e lì caro Alessandro quando io mi sono trovato dopo il primo mese ovviamente avevo ancora problemi medicazioni eccetera però quando poi ho cominciato a stare bene a casa dovevo fare qualcosa io muoio non riesco a essere uno che poltrisce tutto il giorno quindi ho cominciato mi ricordo casualmente da a casa della mamma della mia compagna mi detto guarda è vedova da un bel po' di anni insomma mi detto guarda io ho trovato la Pentax la macchina fotografica di mio marito se vuoi usarla insomma perché tanto io qua non ne faccio nulla e mi dà una borsetta e dentro c'era questa fantastica Pentax K1000 penso che quella macchina dopo che l'ho fatta revisionare credo che potrà usarla anche non solo mia figlia ma i figli delle mie figlie insomma basta che non la facciano cadere al quarto piano perché finché cade dal terzo quella macchina lì rimbalza la prendi in mano e riscatta e poi avevo io avevo una Nikon F una mia ovviamente passione io da ragazzo quando ho iniziato ho iniziato con le fotocamere Nikon ma più che altro perché quel fotografo che vi raccontavo prima era un Nikonista avevo potuto andare diversamente quindi avevo questa Nikon F e ho detto vabbè adesso rispolveriamo tutto e e ho addirittura anche calato l'asso ho detto vabbè mi manca il medio formato sono andato in cerca di una Rolly Flex e ne ho comprata una del 1965 che è l'anno della mia nascita e quindi buon gustario buon gustario la tengo veramente con sì non è che l'ho messa lì la uso perché non sono un feticista io gli attrezzi devono essere consumati devono essere usati non devono essere messi lì per collezionismo il collezionismo secondo me si fa con le fotografie non con le fotocamere ecco le fotocamere servono a scattare fotografie quindi ce l'ho la uso e mi dà una grandissima soddisfazione anzi tendo di più a usare il 6x6 che il 35mm proprio perché la vedo più come si può dire ti spinge di più a pensare ecco ed era una cosa che a me mancava molto cioè questa diciamo tra virgolette riconversione all'analogico se ci pensi dopo 15 anni quasi di estremizzazione digitale con il photoshop eccetera eccetera era entrato un po' in una crisi di rigetto e quindi come diceva anche Alessandro prima adesso proprio adoro il rischio capito perché quando hai riavvolto il rullino col cazzo che sei sicuro che le foto escano perché prima devi portare in camera oscura non è che hai fatto clic tiri la schedina ed è tutto bello a posto c'è tutto lo sviluppo e quella è una parte che ancora mi intriga io l'altro giorno per esempio dicevo ad Alessandro al telefono che insomma ho preso sto kit bellini della C41 e sto andando a fotografare ad cazzum come dicevano i latini cioè non ci penso alla fotografia proprio perché ho bisogno di rullini da sviluppare cioè io godo nel sviluppare questi rullini quindi ne ho fatti un po' ovviamente adesso sto esagerando però insomma gli ultimi due che mi servivano a finire la compilation ho detto vabbè me ne frega niente facciamo un po' di foto così alla vai che vai bene pur di avere il materiale per poi chiudermi lì io mi sono sempre occupato insomma una volta con la Job una volta con la Tank altri anni avevamo le macchine Copal che tutti ricordano almeno per gli otturatori ma pochi sanno che negli anni 80 e 90 la Copal produceva anche delle macchine per i mini lab e io usavo quelle quindi la Calabria ragazzi mi ha mi ha riaperto il mondo dell'analogico eeeh bello però questo non è analogico ma vale la pena magari parlarne un attimo ecco il titolo ve lo leggo in arabo un dub fas quel titolo lì è la mia fanzine è la mia fanzine quella bene 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 è fuori tema è fuori tema www.scarfess.it scritto potete andare a raccogliere tutte le informazioni su quel mio e unico credo lavoro digitale che ho poi pubblicato dicevo l'altro giorno unico è tagliente il lavoro è molto tagliente eh sì bellissima esperienza bellissima proprio allora 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 io diciamo leggerei qualche domanda adesso intanto vabbè per chi per chi non lo sa chiaramente insomma quando si parla di formato 35 mm è il formato della pellicola più diffuso in assoluto che poi coincide in questo caso diciamo la dimensione della pellicola coincide formato laica formato laica esatto e coincide a quello che è la dimensione di un sensore full frame oggi invece quando parliamo di 6x6 chiaramente sono invece centimetri quindi le macchine medio formato hanno una pellicola più grande un sensore più grande fino ad arrivare poi alle macchine di grande formato che sono i banchi ottici dove stampiamo anche su lastre su pellicole 20x25 lavoriamo con pellicole 20x25 e la cosa interessante è che più aumenta il formato e meno scatti hai a disposizione col banco ottico ne hai uno con le video formato insomma 12 poi dipende un po' anche dal formato e con invece i formati più piccoli con la 35mm hai 24-36 pose già e leggiamo un po' di domande dai Ettore Ruga che è un nostro caro amico calabrese chiede Cocci Miglio ciao la solar ci chiede se le fotografie che abbiamo visto prima le hai realizzate con la carta direttamente su carta fotografica e non su pellicola quindi una domanda un po' più tecnica allora in effetti allora innanzitutto le foto la solarografia l'ha fatta Valentino non sono miei scatti non mi voglio appropriare di un lavoro che non è mio però sì la solarografia obbligatoriamente si deve fare su carta non si può fare su pellicola perché 200 giorni di esposizione su una pellicola vanno oltre cioè la pellicola è troppo sensibile per 200 giorni di esposizione quindi in realtà si utilizza una carta a grado 0 o grado 1 questa è una pellicola tirata fuori il negativo della fotografia che abbiamo visto prima che poi va scansionata anzi scansita e si ottiene quel risultato insomma quindi per 200 giorni si lavora sulla carta però poi si tratta esattamente come lo sviluppo di di un negativo ok anzi quando la tiro fuori dal barattolo ho già il negativo pronto poi devo solo fissarlo ma in realtà è pronta lì dura anche poco bisogna scansirla subito perché man mano che rimane alla luce perdo la mia foto finito il covid questo è per Giuseppe ma non è una domanda è una richiesta ma insomma di altra natura finito il covid vogliamo Andretta per un bel workshop sullo sviluppo credo che sia sempre Ettore a a chiederlo lo sviluppo di Daniele Paviglianiti che è uno degli iscritti di Reggio Calabria lui ha fatto un corso base un intermedio un avanzato quindi un super seguace diciamo di corso base di fotografia.it ci chiede quando scatti una foto o un progetto crei un progetto pensi prima il formato che dovrà avere quindi se metterlo dentro un libro se farci un quadro se metterlo su internet a chi la vuole rispondere esatto non è generica quindi date un feedback veloce entrambi magari per me è un po' più ampia perché in realtà quando pensiamo al progetto pensiamo a 360 gradi cioè pensiamo all'attrezzo che va sviluppato quindi costruzione della macchina funzionale al progetto e poi ovviamente anche al risultato di fatti con il lavoro di Valentino che sta mandando in stampa ha dovuto utilizzare un formato forzatamente panoramico quindi sì però porsi troppi almeno per me troppi limiti no il formato di stampa viene dopo ci adeguiamo ok almeno io allora io non ho ancora mai affrontato un progetto in analogico appunto perché la primo non sono un fotografo professionista in secondo luogo perché non ho non ho non ci ho mai pensato a far nulla in pellicola seriamente come avete visto le foto che scatto io in pellicola sono tutte quelle foto che fanno parte della mia vita familiare della mia vita intima dei miei amici l'unica cosa che da due anni ho proprio smesso di fare è proprio quella di avere con me una fotocamera digitale perché sinceramente anche se è brutto da dire ho un telefonino della madonna quindi se mi serve la fotografia digitale ho sempre qualcosa di digitale con me quello che mi mancava era qualcosa di analogico poi sarà la vecchiaia sarà tutto quello che volete io avevo un problema sentimentale cioè mi mancava anche perché ci ho fatto la giovinezza posso capire che un ragazzo che non ha mai visto niente non gliene può fregare nulla come ho incontrato invece dei ragazzi a cui è stata fatta vedere la fotografia in pellicola e l'hanno abbracciata proprio a piena mani insomma e c'è tutto un mondo io lunedì martedì e mercoledì farò un corso che non è un webinar come questo è un corso a pagamento dove parlerò di photoshop ma esclusivamente applicato al problema della scansione quindi parlerò innanzitutto di flexcolor che è il software della imacon che è uno degli scanner attualmente più utilizzati e anche ottimi come qualità io ho la fortuna di averne uno in studio e quindi le mie scansioni le faccio veramente ad alta qualità e ho dei risultati belli c'è un centro che tu conosci che si chiama Yes We Scan a Milano che è un centro specializzato in scansioni digitali credo abbia due o tre scanner io sono molto amico di Andrea Mariani il titolare di cui parlo volentieri e lui appunto di scansioni insomma bene o male in questo periodo ci sta campando proprio perché a Milano c'è tutta una serie ovviamente non è una folla immensa ma c'è una buona parte di fotografi che scattano ancora in pellicola e hanno ovviamente la necessità poi di avere delle scansioni di altissima qualità quindi tra i loro clienti è nata questa esigenza perché alcuni hanno anche lo scanner a casa altri si servono da Yes We Scan però poi ovviamente si tratta di prendere un file RAW perché sostanzialmente FlexColor fa una scansione in un formato RAW punto FFF e di conseguenza poi l'utente si ritrova a casa che deve togliere il pelo togliere la polvere togliere lo striscio sistemare i colori creare il bilanciamento che c'è perché a volte ci sono mescolanze di luci eccetera eccetera e quindi farò un incontro cioè farò tre incontri di un paio d'ore proprio sulle tecniche che uso io nelle scansioni insomma gli strumenti che uso con Photoshop poi per fare la pulizia per avere un file che poi posso stamparmi tranquillamente anche in fine art ecco fantastico allora mi sembra che non ci sono più domande ma c'era invece un saluto ad Alessandro da parte di Vittorio Curcio che diceva Alessandro un grande uomo e soprattutto un grande professionista un saluto da Bergamo quindi io volevo ricordarvi l'appuntamento di sabato prossimo in cui avremo altri due docenti che sono attivi nell'ambito della fotografia matrimoniale quindi altri due docenti di corso base di fotografia.it che sono Davide Azzei dalla Sardegna e Mattia Colom invece da Pavia e poi nelle settimane successive continueremo avendo ancora altri docenti di questo bel progetto quindi vi aspettiamo nelle prossime settimane il primo appuntamento è quello di sabato prossimo dedicato alla fotografia di matrimonio quindi diciamo sabato prossimo stesso posto stessa ora ci rivediamo qui e intanto vi diamo un grande abbraccio a distanza saluto e ringrazio Alessandro e Giuseppe grazie a te grazie grazie saluto ciao a tutti e ci rivediamo presto un abbraccio a tutti ciao 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 bella ciao è giusto oggi bella ciao oggi bella ciao ciao ragazzi ciao